Bentornati, allora ho chiamato questa puntata arrangiatori, orchestratori e truffatori con lo scopo di spiegarvi soprattutto ovviamente ai no musicisti principalmente la differenza che c'è tra i primi due, cioè tra gli arrangiatori e gli orchestratori e poi vi spiegherò anche perché ci ho messo dentro anche i truffatori Allora partiamo dagli orchestratori L'orchestratore è una figura per certi versi tipica dei film americani Ora noi parliamo di cinema ma ovviamente non è una figura che esista solo nel cinema è una figura però particolarmente utilizzata nel cinema in cui praticamente cosa succede? Il compositore spesso e volentieri ha pochissimo tempo per scrivere una colonna sonora magari anche di oltre un'ora E siccome le orchestre che ci sono nei film, soprattutto nei film ad alto baggio sono orchestre sterminate per orchestrare, cioè cosa vuol dire orchestrare in pratica? Vuol dire stabilire quali strumenti fanno cosa ovvero sia magari si parte da una parte di pianoforte e si dice ok questa frase musicale la fanno i violini questo contrapunto lo fanno i clarinetti questa parte la fanno i violoncelli e così via quindi avendo necessità di scrivere un'enorme quantità di musica in poco tempo molte volte il compositore anche se sarebbe in grado di farlo non orchestra per questioni squisitamente di tempo vi faccio un esempio mi sto studiando in questi giorni questa partitura che ho comprato da poco che è How to Train Your Dragon di John Powell e se apriamo questa sterminata partitura ci rendiamo conto che sono 80 minuti di musica scritti per un organico sterminato cioè 3 flauti, 3 oboi, 3 clarinetti, 3 fagotti 12 corni, generalmente i corni ce ne sono 4 raramente 6, qui ce ne sono 12 4 trombe, 7 tromboni timpani, 2 arpe, celesta, pianoforte, coro a 4 voci archi e una lista di percussioni che se sto qui a leggere domani mattina siamo ancora qua allora quindi non stupisce che per orchestrare una musica così densa siano stati utilizzati due orchestratori e ben 8, diconsi 8, orchestratori addizionali perché John Powell che comunque è un signor compositore molto bravo, molto stimato, molto in gamba non avrebbe avuto il tempo perché per orchestrare 80 minuti di musica con un'orchestra così densa quindi per stabilire quale strumento fa cosa possono vederci anche mesi ma tanti mesi mentre qui come sapete sono poche settimane il periodo in cui si scrive e si realizza una colonna sonora quindi cosa succede? l'orchestrator riceve dal compositore una musica scritta generalmente per pianoforte e stabilisce lui in base all'organico che ha a disposizione gli verrà detto hai appunto tot corni, tot clarinetti, tot fagotti eccetera eccetera stabilirà lui l'orchestratore come dividere la musica che gli è stata data scritta per pianoforte per i vari strumenti anche John Williams molte volte non orchestra in prima persona anche se avrebbe tutte le capacità e le conoscenze per farlo ma per questioni di tempo non orchestra lui però dà comunque all'orchestratore un qualcosa di già abbastanza definito cioè oltre la parte pianoforte gli dà magari che sono la parte dei corni la parte già fatta dal flauto la parte fatta dal fagotto e così via quindi dà comunque all'orchestratore già come dire una linea molto chiara sulla quale lavorare l'arrangiatore invece fa fondamentalmente un lavoro diverso prende una musica che quasi mai è stata scritta dal compositore magari metti per pianoforte molte volte è un file audio il produttore o chi per lui gli dà un file dice ascoltati questa canzone e fammi l'arrangiamento in base ovviamente anche lui agli elementi che ha a disposizione ma diciamo nel complesso l'arrangiatore è un ruolo più creativo rispetto all'orchestratore perché molte volte cambia completamente lo stile magari una canzone generalmente l'arrangiatore è tipico più delle canzoni che dei pezzi orchestrali decide di fare una determinata canzone in uno stile magari diverso da quello che aveva pensato il compositore della canzone poche settimane fa è scomparso Danilo Minotti che è stato uno dei più grandi arrangiatori che abbiamo avuto in Italia e io insomma che gli ho visto fare tantissimi arrangiamenti mi rendevo veramente conto di che grande fantasia grande perizia servisse per fare così tanti arrangiamenti in così poco tempo e spesso su stili così diversi diciamo che l'orchestratore deve avere una conoscenza dell'orchestra veramente molto molto approfondita quindi se vogliamo è un lavoro come dire meno artistico ma che richiede una grande perizia una grande conoscenza l'orchestratore deve sapere perfettamente qual è l'estensione degli strumenti ma non solo quali note dell'estensione degli strumenti vengono bene, vengono male sa che si fa fare quella frase al trombone deve sapere che quella nota il trombone non ce l'ha e non può suonarla insomma deve sapere deve conoscere molto bene l'orchestra l'arrangiatore a volte che magari non usa l'orchestra certamente non l'orchestra di dimensione ma a volte usa comunque l'orchestra con una base di archi e non solo con dei fiati e delle percussioni però l'arrangiatore molte volte si affida anche a quella che è la sezione ritmica quindi basso, batteria e pianoforte che spesso e volentieri non hanno una parte vera e propria scritta ma hanno come dire un canovaccio una linea da seguire magari nel caso della batteria con i ritmi fondamentali con i punti dove vanno messi i fill poi il resto lo farà il singolo musicista il singolo chitarrista o il singolo pianista o il singolo bassista o il singolo batterista o percussionista improvvisando improvvisare non vuol dire suonare la prima cosa che viene in mente vuol dire partire da un qualcosa che viene fatto a orecchio in base a quello che ascolta e poi comunque standardizzare e spesso anche scrivere una parte vera e propria e non è detto che sia l'arrangiatore che ha scritto la parte della batteria può succedere può essere o la parte del pianoforte ma molte volte se voi vedete la parte pianistica di un pianista di una canzone arrangiata da chiunque vedrete che magari sulla parte del pianoforte sono solo gli accordi quindi la griglia degli accordi per cui lui sa che questa battuta siamo in questa tonalità e così via e poi magari delle parti obbligate dei riff delle parti particolarmente importanti in quella canzone secondo quell'arrangiamento secondo lo stile che sta abitando l'arrangiatore altra differenza fondamentale tra l'arrangiatore e l'orchestratore è che l'orchestratore riceve la musica e non cambia nulla né della tonalità né del tempo né di niente né tantomeno dello spirito anzi l'esatto opposto cerca di rendere più possibile lo spirito del compositore attraverso l'orchestrazione la reggiatore invece molte volte cambia completamente lo spirito di quella che era di quello che era di quelle che erano le volontà del compositore e molte volte cambia la tonalità molte volte fa delle aggiunte fa delle intro aggiunge o toglie parti raddoppia rifà due volte il coro cambia la tonalità fa una modulazione in un'altra tonalità cioè è molto più determinante e anche come dire una maggiore autonomia di movimento una maggiore capacità decisionale rispetto alle scelte musicali da fare anche rispetto all'orchestratore mediamente un organico più ridotto insomma anche questa è una differenza non da poco proprio per l'abitudine invalsa nel cinema americano a usare gli orchestratori come abbiamo visto anche tanti orchestratori molti orchestratori su un solo film Moricone aveva preso l'abitudine visto che non aveva orchestratori ma orchestrava in prima persona di scrivere sempre non musiche Ennio Moricone ma musiche composte orchestrate e dirette soprattutto il dirette quando poi nessuna musica non le dirigerà più Bruno Nicolai proprio perché ci teneva perché ovviamente essendo un compositore di di estrazione classica pura diciamo così l'orchestrazione è parte integrante della della composizione è così anche per me non per niente l'orchestro io in prima persona potrei un domani in linea teorica affidare determinate determinate determinati lavori di orchestrazione ad altre persone magari per questione di tempo ma tendenzialmente sarebbe sempre una cosa che farei un po' come dire ob torto collo proprio perché non riesco a stare dietro alla tempistica mania di massima orchestrare fa parte del processo compositivo e quindi lo devo fare io e a proposito di arrangiamento e direzione orchestra quante volte mi avete chiesto ma il direttore d'orchestra che è a Sanremo dal punto di vista direttoriale potrebbe serenamente starsene a casa perché i musicisti hanno il click in cuffia e quindi come dire la funzione del direttore a Sanremo non è quella di coordinare e di far andare insieme diciamo così i musicisti ma è una funzione quasi esclusivamente scenografica però il direttore orchestra che è a Sanremo ha fatto l'arrangiamento poi aggiungo io quando l'ha fatto lui e non l'ha fatto fare qualcun altro firmandolo lui ma vabbè questo è un altro discorso magari ne parleremo una volta una volta una volta prossima in linea teorica quello che vedete che dirige orchestra a Sanremo è colui che ha scritto quell'arrangiamento di quella canzone ecco poi generalmente appunto quando la parola arrangiamento è quasi esclusivamente legata a una canzone e appunto e non a un film però insomma ci sono anche delle altre situazioni in cui si usa l'arrangiatore ma mediamente diciamo che nel parlare comune generalmente ci si riferisce all'arrangiamento quando si parla di una canzone e all'orchestrazione quando si parla di un film o di un grosso progetto orchestrale arriviamo ai truffatori chi sono i truffatori molte volte mi è successo di vedere una cosa allora in origine tutti i compositori scrivevano con carta e matita Morricone lo faceva ancora pochi anni fa oggi i compositori scrivono quasi sempre direttamente sul software che sincronizza quello che loro scrivono con le immagini del film che devono che devono comporre però orchestrano loro nel senso scrivono loro la parte di ogni singolo strumento e quindi i violini faranno questo e scrivono suonano magari o comunque pensano che i violini debbano fare quella parte lì i fagotti questo i corni quello molto nel dettaglio dopodiché per questioni di tempo non si mettono loro a trasformare questa roba che hanno scritto in note sul pentagramma lo danno a una figura terza che generalmente è un copista che se li scarica in formato midi il formato midi è un formato insomma leggibile a diversi software anche diversi e il copista trasforma appunto questa roba che ha scritto il compositore in note sul pentagramma molte volte quindi però in questo caso l'orchestrazione non l'ha fatta quello che è ricevuto il file l'ha fatta il compositore e a volte invece cosa succede che il copista prende questo file trasforma come ho detto quello che ha scritto quello che ha già scritto il compositore in note sul pentagramma e poi scrive orchestrazioni e mette il proprio nome ma questa non è orchestrazione questa è una parte che fa un copista che è una figura molto importante soprattutto nella musica da film o comunque nella musica leggenda insomma ovunque ci siano dei musicisti che suonano seduti con una parte davanti ci vuole un copista quindi è un ruolo molto importante quel copista ma è un ruolo da copista non da orchestratore invece tante volte vedo che il copista si appropria della dicitura orchestrazioni e mette il proprio nome solo perché ha trasformato il file MIDI in note in note sul pentagramma e questa cosa qui non ha nessun senso cioè non c'è nulla di creativo è un lavoro è un lavoro l'ho fatto anch'io l'ho fatto anch'io tante volte è un lavoro come dire di ordinare amministrazione non c'è niente di creativo in quello che fa il copista e ripeto lo dico io che l'ho fatto per tanti anni per cui cari colleghi soprattutto giovani e alle prime armi se avete orchestrato voi non permettete che qualcun altro sia propri dei credit su orchestrazione non cambia niente dal punto di vista economico non è non come dire è una cosa formale ma anche di grande importanza se avete orchestrato voi è giusto che vengano riconosciuti voi i credit dell'orchestrazione per cui non fatevi fregare mi raccomando bene spero che la puntata vi sia piaciuta se avete delle domande scrivetelo nei commenti o mandatevi un messaggio privato e noi ci vediamo alla prossima puntata grazie a tutti